L'energia viene trasformata in movimento ovunque e continuamente. Siamo creativi. Costruire è nella nostra natura. Ma per estrarre le risorse naturali necessarie per realizzare i nostri sogni, serve molta energia. Ottimizzare l'energia e i costi è fondamentale per aumentare la produttività e la sicurezza e per ridurre i costi per ogni tonnellata prodotta. Motori, azionamenti e sensori nell'industria mineraria e metallurgica fanno il lavoro pesante, producendo ferro, rame e cemento e altri materiali da costruzione in modo sicuro ed efficiente. Motori elettrici e azionamenti consentono di spostarci, produrre, crescere e prosperare. Ma per fare tutto questo serve energia. Molta energia. E con l'aumento della popolazione, dell'urbanizzazione e degli standard di vita, ne servirà ancora di più. Al tempo stesso, per combattere il cambiamento climatico, dobbiamo ridurre le emissioni di anidride carbonica. La buona notizia è che possiamo fare meglio.